Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, come al solito, Forza Juventus. Allora, ci sono alcune cosine da dire su conclusive, immagino per il momento, perlomeno sull'esonero di Allegri e poi passeremo a iniziare a capire cosa succederà in Bologna-Juve perché poi il campo rimane. La Juventus ha ancora due partite di Serie A da disputare e Montero sarà l'allenatore traghettatore che poi porterà ancora una volta a Bologna per l'arrivo di Tiago Motta, molto probabile, vedremo quando sarà anche ufficiale. Allora, ieri vi dicevo che una cosa mi era dispiaciuta e cioè non leggere i ringraziamenti per la Coppa Italia nel comunicato di esonero di Allegri. Capivo il comunicato duro, per me era necessario per non perdere la faccia di fronte a quanto accaduto e quanto fatto da Allegri nel post partita di Coppa Italia, però il ringraziamento per la Coppa Italia per me era doveroso, come è stato ringraziato Sarri per lo scudetto, oppirlo per le due Coppe, qualsiasi atto l'allenatore prima in precedenza per i trofei conquistati. Successivamente è venuta fuori un'indiscrezione e cioè che ad Allegri insieme all'esonero è stata consegnata una lettera in cui 5 punti la Juventus faceva leva su dei comportamenti errati di Allegri e questo spiega perché effettivamente sul comunicato non si parla mai di ragioni legate agli obiettivi sportivi, anzi mi viene anche il dubbio che il comunicato possa essere stato scritto prima della finale di Coppa Italia dato che di finale di Coppa Italia si parla, non si accenna vittorie e sconfitte e se stai provando a tutti gli effetti a licenziare quindi un intervento dal punto di vista proprio disciplinare che andrà a diventare anche qualcosa di legale perché ci saranno gli avvocati della Juve e gli avvocati di Allegri al lavoro in queste ore per risolvere questa situazione, difficilmente poi gli fai anche i complimenti per qualcosa che ha fatto dal punto di vista lavorativo. Quindi questa è diventata a tutti gli effetti una guerra tra Allegri e la Juventus, sarà probabilmente licenziato, quindi io ieri pensavo che quella pace fatta con Vacciaro in fretta e in furia potesse essere finalizzata ad aiutare Allegri dal punto di vista della Juventus e quindi a confermare l'esonero come c'era scritto poi sul comunicato in realtà. Per il momento Allegri è stato esonerato e poi probabilmente impugneranno gli estremi per licenziamento per giusta causa. Ecco, se ieri vi parlavo della mia amarezza nel terminare così un rapporto di lavoro con quello che a tutti gli effetti è un allenatore vincente nella storia della Juventus, uno dei più vincenti nella storia della Juventus, oggi vi dico che non c'entra niente questo dal punto di vista sportivo, è proprio una guerra, una lotta, una battaglia, hanno scelto la via delle maniere forti. Allegri doveva semplicemente resistere altri dieci giorni, non si sarebbe mai arrivati a questo punto, aveva dei sassonini da togliersi, ha voluto scegliersi un futuro di questo tipo qua. Per me sarebbe stato molto più produttivo e sensato per entrambe le parti arrivare al 26 maggio post Juventus Monza e salutarsi e basta. Salutarsi e basta, un esonero dal punto di vista sportivo che comunque Allegri non avrebbe gradito e di questo sono certo, sono sicuro perché lo abbiamo capito che Allegri era molto arrabbiato per questa questione qui, è probabilmente uno dei temi per cui poi è esplosa la rabbia di Allegri, però almeno si sarebbe evitato tutto questo teatrino dell'orrido che secondo me non fa altro che mettere un po' la Juventus Allegri sotto una cattiva luce ed è vero che se per Allegri, bocca al lupo per il futuro, per le prossime esperienze, ma non è che mi importi e spero che possa non importare a tanti il futuro di Allegri, nel senso che se andrà a allenare un'altra squadra, magari una rivale della Juve, saranno a fare i suoi e sarà un piacere batterlo sul campo, la Juve rimane, come dicevamo ieri, potrebbe essere magari anche un ostacolo dal punto di vista di alcuni tesserati da raggiungere poi successivamente perché metti che qualcuno dice, beh, a me non è piaciuto come si sono comportati con Allegri, figurati come possono comportarsi con me, se devo scegliere tra la Juve e un'altra magari vado a un'altra parte. Io avrei evitato tutto questo, era diventato impossibile evitarlo. Si è scelto di andare in questa direzione, sia da parte di Allegri che da parte della Juventus. Io credo che un tifoso possa avere delle posizioni, delle idee, io vi ho già spiegato che sono a favore di un comunicato duro per quanto accaduto con Allegri, però poi queste robe qui sono robe che rimangono interne, perché stiamo parlando veramente di un'azienda, di un dipendente, di un codice, perché la Juventus parla di incompatibilità di proseguire insieme. E sono robe che rimangono lì, sono panni sporchi che si lavano in casa. L'ultimo accenno prima di concludere questa vicenda, oltre ai ringraziamenti che invece sono arrivati da Andrea Agnelli, e mi è dispiaciuto, devo dirvi la verità, perché Agnelli ha tweetato due volte, nell'ultimo anno credo, da quando poi è successo tutto quel casino con la Juventus. Uno in occasione dello scudetto dell'Inter e uno ieri sera per ringraziare Allegri. Ecco, non è tanto il problema del tweet post scudetto dell'Inter o il tweet post esonero dell'Egri, mi sarebbe piaciuto da parte di Andrea Agnelli un tweet di ringraziamento e di elogio alla Juventus in occasione della conquista, della vittoria della Coppa Italia, perché questo dimenticarsi o voler omettere nel comunicato Juve e questo dimenticarsi o non voler commentare da parte di Agnelli un trofeo mi fa un po' intristire dal punto di vista degli uomini che sono e sono stati Juventus in questi anni. Mi intristisce un po', perché un trofeo è sempre un trofeo e sembra che ce lo stiamo dimenticando un po' troppo in fretta questa roba qui, perché della Coppa Italia ce ne siamo dimenticati. Lo sappiamo, sono state 48 ore infernali. Io sono stato sereno, contento e felice per le due ore, due ore e mezza successive a quando abbiamo vinto il trofeo. Poi è iniziata veramente una cascata di eventi, di notizie e di rincorse che ha completamente distolto l'attenzione da quello che invece è stato un trofeo che dovevamo festeggiare per altri dieci giorni prima di arrivare a una separazione giusta per ragioni legate allo sport. Questo è quello che è accaduto alla Juve e noi non possiamo fare altro che accettarlo e guardare avanti. Io con ottimismo, perché penso che la Juventus dal punto di vista sportivo stia cercando di costruire qualcosa di importante, a partire da queste ultime due partite di campionato che dovranno essere un po' un defaticamento per la Juve e per tutti i tifosi della Juve. A Bologna come ci andiamo? Intanto oggi la Juventus dovrà annunciare Montero, ufficialmente, che in questo momento è a Frosinone, pronto a scontare la giornata di squalifica insieme alla Juventus primavera, gli Under-19. Sono andato un pochino a controllare quelle che sono state le formazioni schierate da Montero in questa stagione. Principalmente mi sono concentrato sul modulo di partenza e il modulo attuale della Juventus di Montero, Under-19. Tra l'altro l'andata vinse, mi pare, per 5-2 contro il Frosinone. Vedremo oggi il risultato quale sarà. Io l'invito che ho fatto ieri lo faccio anche oggi. Perché io so, io lo so, io lo so, perché lo so, se oggi la Juventus di Montero dovesse perdere, apriti cielo, apriti cielo. Ah, è questo che abbiamo messo in panchino al posto dell'Egre? Io ce li ho già in testa i commenti. Invito tutti a lasciare stare almeno Montero, che in questa situazione non c'entra niente. È stato semplicemente utilizzato come tappabuchi per queste ultime due partite. Lasciamo stare Montero, la storia di Montero, la Juventus. Lasciamo stare questo signore, per favore, per cortesia, lasciamolo stare. Però dobbiamo parlare di lui e di quella che è la sua Juve. Nelle ultime giornate sta schierando un classico 3-5-2. Quindi da questo punto di vista la Juventus potrebbe benissimo riprendere da dove ha lasciato in finale di Coppa Italia con l'Atalanta e per tutto il campionato e tornare a schierare Bremer, Gatti, Danilo, bla bla bla. Sappiamo ormai il ritornello e Chiesa Vlaovic davanti, eccetera, eccetera. Questa potrebbe essere una strada, forse anche la più logica e sensata. Montero in questo momento non è nemmeno con la Juve, l'allenamento lo dirigeranno, lo stanno dirigendo Paduin e Magnanelli. Montero è impegnato in un'altra cosa. Una volta completata questa squalifica, una volta ritornati da Frosinone con la primavera, Montero domani, molto probabilmente, sarà in conferenza stampa. Se ci sarà una conferenza stampa o se ci sarà un silenzio societario, io non lo so. Non penso che ci sia un silenzio stampa, però se ci sarà una conferenza la dovrà tenere Montero, ecco, poi vedremo domani quello che accadrà, cercheremo di fare il quadro della situazione, il quadro più chiaro. Avremo altre ore calde davanti e saremo sempre qui a commentare insieme tutto quello che accadrà. Però poi Montero domani avrà bene o male il primo allenamento con la squadra e domani è già l'allenamento di vigilia. Anzi, domani è già, è oggi in realtà. No, no, è domani, sì, è domenica, perché giochi è lunedì, è domani l'allenamento di vigilia. Quindi conferenza stampa, allenamento di vigilia, eccetera, eccetera. C'è un'altra strada, però, che secondo me potrebbe prendere Montero, perché a inizio anno in realtà schierava la Juventus con un 3-4-2-1, quindi un centrocampista in meno e un giocatore più avanzato invece sulla tre quarti. La società potrebbe chiedere a Montero di valorizzare alcuni giocatori che hanno visto poco il campo in questa stagione, che sono ragazzi del vivaio, ragazzi giovani, che magari Montero anche ha già avuto il piacere di incontrare e conoscere in precedenza, e soprattutto, dato che queste ultime due partite non servono a nulla dal punto di vista della Juventus in generale, che possa essere una sorta di, va bene, mettiamo in campo quelli che meritano un minutaggio più elevato. Mi viene a pensare a Nicolussi, che l'altra sera ha fatto una grandissima partita, mi viene a pensare a Fagioli, che rientra dalla squalifica proprio in occasione di Bologna-Juventus, mi viene a pensare a Iling, che abbiamo visto in Coppa Italia da titolare, mi viene a pensare soprattutto a Ildis, mi viene a pensare soprattutto a Ildis, che potrebbe essere schierato all'interno del 3-4-2-1 di fianco a Chiesa alle spalle di Vlaovic. Queste potrebbero essere tutte opzioni interessanti, poi i vari Alcaraz, Miretti, che potrebbero essere banalmente i ricambi per Chiesa e Ildis a partita in corso. Insomma, ci sono veramente tanti giocatori di Thiago Jalò, che non ha ancora fatto nemmeno un minuto con la maglia della Juve, ma ha già vinto un trofeo. Potrebbe essere il turno di Perini in porta dopo la finale di Coppa Italia, potrebbe esserci l'ultima partita per Pinsoglio, o comunque qualche minuto per Pinsoglio. Insomma, queste ultime partite, queste ultime due gare di Serie A, io più che per la Juve di Montero, che credo sarà comunque emozionato di poter allenare la Juve, anche se come traghettatore effettivo, io credo che sarà la Juve di quelli che hanno visto poco il campo. E credo anche che sia giusto così. Poi credo anche che sia necessario andare a Bologna non per fare una gita, una passeggiata, e dire vabbè giocano tutti perché siamo belli fratelli, amici. No, no, perché la Juventus in questo momento deve comunque difendere anche quella che è una quarta posizione, se vogliamo una terza pari merito proprio con il Bologna. Dietro l'Atalanta e la Roma, anzi la Roma ormai no, però l'Atalanta può comunque arrivare, dato che ha pure una partita da recuperare. Non mi andrebbe di chiudere la stagione al quinto posto, sarebbe interessante farlo almeno al terzo dopo che siamo stati nella prima parte di campionato in lotta per il primo posto con l'Inter e poi siamo stati scavalcati dal Milan e ora siamo pari punti col Bologna, abbiamo proprio la possibilità di cercare di distaccarci un po', anche proprio per orgoglio personale, anche proprio per dire non siamo arrivati sotto il Bologna di Tiago Motta, che l'anno prossimo molto probabilmente sarà dalla nostra parte, però quel pizzico di orgoglio personale io vorrei portarmelo a casa lo stesso dopo 15 punti in 15 partite. Poi è anche vero che Montero ha la possibilità di fare 6 punti in 2, sarebbe bene o male quasi la metà dei 15 punti in 15 partite precedenti, io avrei piacere semplicemente a vedere due vittorie della Juve per concludere questo anche brutto periodo ed è paradossale parlare del brutto periodo dopo la conquista di un trofeo, ma brutto periodo perché sono state ore difficili e sono state ore difficili per noi, non oso immaginare dentro la Juve, per Allegri, per lo staff e per i calciatori, che tra l'altro qualcuno ha parlato, qualcuno no, UEA, Rabiot e pochi altri in realtà hanno parlato, hanno avuto un comunicato, un post, Nonge e veramente pochi altri. Nonge è un altro di quelli che potrebbe, chissà, magari trovare qualche minuto in queste due partite su richiesta della società e su input di Montero. Vabbè, questo lo vedremo, sono tutti discorsi ancora in divenire, fatto sta che Montero ha utilizzato un approccio con la difesa 3 in stagione, poi quello che sarà più avanti nel campo, quindi tra centrocampo, tre quarti e attacco, secondo me lo deciderà anche in base a quelli che sono i giocatori disponibili, in base a quella che sarà la richiesta della società, perché secondo me darà la priorità ad alcuni calciatori o più giovani o che il campo non l'hanno visto, e poi vedremo, perché poi la Juventus deve finire queste due partite e iniziare veramente a programmare ufficialmente il futuro. Chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare già il comunicato con l'annuncio del prossimo allenatore, anche se a questo punto qui io credo che sarà veramente dopo Juventus-Monza e dato che c'è lo sciopero della curva Juventus-Monza, lo ricorderete tutti, io sono ancora più voglioso di sapere quando uscirà la data di questa partita, comprare il mio biglietto e andare a sostenere la Juve nell'ultima partita di una stagione veramente molto, molto, molto complicata. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e come al solito, fino alla fine, Forza Juventus!